7 e 10 minuti di venerdì 4 ottobre inizia una nuova puntata di Good Morning Milano buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, come state? cosa state facendo di bello? cosa siete pronti a fare nella giornata di oggi? pioggia, non pioggia? sta piovendo ancora? in questo momento ha leggermente spiovuto, ha spieghermente smesso però mi sa tanto che vi conviene portarvi i ombrelli in giro perché oggi è un'altra giornata di quelle ieri Milano finita sott'acqua, manco fosse le avventure acquatiche di Steve Zizou grande film che vi consiglio di andare a vedere è così, c'è poco da fare, queste bombe d'acqua, puoi prepararti quanto vuoi ma comunque finisci sott'acqua e quindi insomma è un grosso problema e vedremo anche che ci sono state situazioni anche un po' pericolose in giro per la città ma insomma lo vedremo come sempre oggi, oggi è giornata pregna di ospiti ne abbiamo veramente tantissimi, in vista del weekend vogliono tutti venire qua a raccontarci qualcosa quindi noi siamo ben contenti, porte aperte al nostro studio quindi Good Morning Milano vi accoglie e vi accoglie anche da casa al 3317853555 nostro numero di whatsapp grazie mille ad Alberto che già arriva con un whatsapp e ci dice un buon weekend a tutti i cristallini a Fabio e alle ragazze in redazione ieri giornata difficilissima per la pioggia e oggi si rischia che sia come ieri quindi state a casa, non uscite, non andate a nessuna parte fatevi un favore, facciamocelo tutti rimaniamo a casa che facciamo prima anche se abbiamo dei consigli interessanti magari per andare a fare qualcosa questa sera, domani sera insomma ve lo dico subito dopo questa canzone stiamo parlando dei Bee Gees con You Should Be Dancing You Should Be Dancing oppure You Should Be Running questa mattina perché lo sapete, no? com'è? ogni mattina un milanese si sveglia e sa che dovrà correre no, com'è che era? la gazzella sa che deve correre perché ci sarà un leone che no, in questo caso non parliamo di leoni ma parliamo di lupi parliamo di lupi ma che si trovano in un teatro il teatro dei lupi buongiorno Adalberto Corba buongiorno buongiorno, buongiorno grazie di avermi qui allora, prima di tutto Alberto teatro dei lupi non mordete spero però assolutamente no anzi, anzi teatro dei lupi perché il nostro motto è teatro per chi ha fame di teatro quindi una fame da lupi e allora questa fame da lupi possiamo provare a sfamarla in questi giorni avete debuttato ieri nell'ambito del Milano Fringe Off Festival ma va avanti anche nel weekend, giusto Alberto? esatto, ancora oggi, domani e domenica che spettacolo porti in scena? tu sei il regista appunto di questo spettacolo raccontacelo un po' allora, io sono il regista l'autore è Alessandro Mauri la mia aiutoreggia è Michelangelo a Valvia Ritoriani e in scena abbiamo i bravissimi Claudio Gai e Bianca Saffiritti lo spettacolo è molto emozionante ma tratta un tema non dei più semplici noi parliamo di libertà di scelta in termini di interruzione volontaria di gravidanza quella parola che fa tremare un pochino tutti che è aborto ci tengo a parlarne con la locuzione libertà di scelta libertà di scelta informata ok c'è una legge del 1978 che oggi purtroppo in Italia per via di circostanze diverse non è accessibile per tutti noi raccontiamo una storia molto molto tenera perché è una storia di una famiglia è molto dura perché è una storia di ideali che vanno a essere più importanti delle persone e degli affetti lo spettacolo è dura un'oretta ed è un'oretta veramente emozionante ieri sera abbiamo avuto più di una lacrimuccia in scena e quello che mi fa piacere è che ci sono anche dei momenti divertenti non è uno spettacolo che affrontiamo in maniera pesante e soprattutto non ci lanciamo in scene strazianti e retoriche raccontiamo una realtà di fatti e in questo mondo imperfetto insomma le sofferenze quando le cose diventano quando i valori e le persone diventano inconsciabili Alberto un tema molto complicato detto anche tu però insomma mi viene da dire se non il teatro chi può inerpicarsi in questi temi e magari appunto sviscerarli nella migliore delle maniere sfondi una porta aperta io credo che il teatro non debba impartire lezioni ma sollevare delle domande poi le risposte a queste domande stanno nella realtà di tutti i giorni che andiamo ad esplorare ma l'importante è farcele queste domande riflettere sui temi che oggi sono scottanti Alessandro ha scritto questo spettacolo nel 2018 e noi ci siamo domandati subito dopo la pandemia serve ancora è ancora qualcosa su cui vale la pena di investire soldi tempo energie fatica svegliarsi alle 7 e un quarto a fare un'intervista certo che oggi è ancora un tema per cui è importante riflettere quando un tema va a trattare argomenti così personali formarsi un'idea chiara è quanto mai importante Ricordaci allora dove lo possiamo seguire diciamo nell'ambito del Milano Off Fringe Festival ma dove siete in scena e poi parliamo anche del Milano Off Fringe Festival Ok allora sul sito del Milano Off trovate il link per l'acquisto dei biglietti che si possono acquistare anche in loco e il sito il luogo fisico dove lo spettacolo prende vita è il Circo Lo Studi Caldara in via di Amici 17 che è, apro e chiudo una parentesi un luogo bellissimo della vecchia Milano che io ho scoperto grazie al Fringe ed è veramente meraviglioso siamo in scena questa sera alle 21 domani alle 18.30 e ancora domenica alle 21 dopo lo spettacolo di domenica ci sarà un dibattito interviene un'associazione di legali che tutela il diritto all'accesso alla IVG interviene tutto il cast quindi io la mia aiuta regia l'attore l'attrice l'autore del testo e Sara Emanuela Bagliani che è una filosofa che quindi fa da ponte tra il legale e il morale e l'umano non è la prima volta che fate il Fringe però giusto? no nel tuo caso Alberto? no 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 l'anno scorso abbiamo partecipato con uno spettacolo di di un attore diverso un testo mio e siamo siamo stati sia a Milano che a Catania anche l'anno scorso com'è vedere una Milano teatralizzata o che diventa diciamo sipario e scenario e palco in ogni angolo perché insomma sono anche luoghi a volte non deputati appunto al al teatro ma che diventano ottimi contenitori e scenografia anche a volte dei vostri spettacoli per quanto mi riguarda il Fringe è stato amore a prima vista io sono da spettatore insomma da fruttore del teatro l'ho amato già l'anno scorso si respira un'atmosfera proprio di di elettricità come dire no viene voglia di fare tutto di vedere tutto ma è talmente ampio che è impossibile quindi ogni anno si fanno delle scelte si vede tanto teatro si incontrano colleghi che diversamente non avresti modo di conoscere si vedono luoghi magnifici come il circolo Caldara ci sono ci sono incontri si fa comunità parliamoci chiaro un'occasione per chi fa teatro di fare comunità di fare rete di conoscersi di lavorare insieme sono preziose sono preziose perché oggi oggi noi siamo come dire la resistenza del teatro siamo teniamo teniamo duro in un contesto che è molto più difficile che è molto difficile i mezzi di comunicazione i mezzi di espressione artistica più noti sono altri con più accesso sono altri sicuramente sicuramente però so già che insomma se non il pienone quasi ai vari spettacoli del Fringe perché veramente è molto molto seguito questo festival Alberto io ti ringrazio davvero per essere stato qui con noi questa mattina ricordaci prima di salutarci appunto gli appuntamenti scusa il gioco di parole per venire a vedere il vostro magnifico spettacolo secondo Luca al circolo culturale Caldara via dei amici 17 questa sera alle 21 domani sera alle 18 e 30 e domenica sera alle 21 dopo lo spettacolo di domenica sera segue un interessantissimo dibattito che beh è bellissimo dopo lo spettacolo seguirà dibattito è una roba che sembra di altri tempi ma è stupenda davvero quindi complimenti Alberto anche per questa per questa iniziativa davvero grazie mille di avermi avuto qui vi aspetto grazie e si può dire bocca al lupo pure pota sfiga dirlo viva al lupo ah ok perfetto con voi che fate teatro non si sa mai cosa dirvi quindi va bene grazie mille Alberto buona giornata grazie a voi e allora continuiamo anche noi qui in diretta sono le 7.23 minuti siamo pronti per andare anche con i prossimi ospiti che arriveranno fra poco qui in studio ma prima voglio fare degli auguri perché era il 2021 e a Sanremo sul parco di Sanremo sale una coppia magari sconosciuta a molti ma ben conosciuta dai milanesi loro erano i comacose e presentarono una canzone che era fiamme negli occhi beh ci innamorammo tutti quanti della canzone ma soprattutto della loro interpretazione ma soprattutto dell'amore che passava tra quegli occhi e quelle fiamme che passavano da uno sguardo all'altro beh si promisero come si dice in questi casi amore eterno senza mai però poi riuscire a concretizzare beh ieri finalmente ce l'hanno fatta tanti auguri per il matrimonio dei comacose e quindi non possiamo che ascoltare qui insieme e innamorarci ancora una volta di questa canzone tutti quanti insieme con i comacose fiamme negli occhi qui good morning Milano e i comacose con fiamme negli occhi ve lo ricordate quel momento in cui tutti abbiamo capito cosa volesse significare il vero amore si era quello che passava allora tanti auguri ancora davvero ai comacose tantissimi auguri per questo finalmente anzi diciamo tutti quanti questo matrimonio che si è appunto tenuto ieri qua a Milano sarà dei specchi ho visto quindi insomma bellissimo va bene andiamo con un po' di pubblicità e poi torniamo subito qui in diretta qui good morning Milano 7 e 28 minuti venerdì 4 ottobre Bob Sinclair I believe e crediamo che faremo cosa gradita a tutti quanti a darvi le indicazioni che arriveranno fra pochissimo Gli eventi della settimana a cui io Eri B non andrei buongiornissimo buongiorno Eri B benvenuta caffè così tipo le bume speriamo di fare cosa gradita non lo so senti oggi dobbiamo andare veloci andiamo veloci mi levo subito una roba e non la dico più per tutto il mese di ottobre campi di zucche raga allora Mirtili di San Vito a Gaggiano ma soprattutto il campo di Federica che è quello dove è andata anche la Ferragni quando ancora era felice a fare il suo set fotografico ieri in Grecia abbiamo visto ieri in Grecia ragazzi vabbè ma fa niente lasciamo stare comunque ha trovato un nuovo mercato per poter vendere sono contenta da un certo punto ok quindi zucche 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 mamme influencer che sono una cosa molto simile le mamme pancine magari anche mamme pancine ci sono ci facciamo amici sempre tutti Beatrice non mi guarda poi ti spieghiamo chi sono le mamme pancine perché non sai cosa sono le mamme pancine abbiamo poco tempo andiamo avanti poi ortica in festa oh bello ortica in festa sempre stesse cose bancarelle artisti di strada pioverà quindi organizzati 4-6 quindi da oggi fino a domenica wow 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 vabbè poi poi Bollate ha deciso di fare anche lei il suo street food oh bello raga però così diventiamo veramente tutti obesi io ci tengo a dirvelo si chiama Hop Hop mi fa ridere Hop Hop street food 4-5-6 in piazza della resistenza andate mangiate tutto e lasciate i vostri stipendi lì grazie 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 benissimo poi vabbè c'è una cosa a cui io non posso andare perché proprio è un argomento che non mi interessa che è la Milano Wine Week che molto probabilmente durerà solo la Milano Wine Week tre giorni l'inaugurazione è questa sera alle 18 dove nel posto più wine di tutta Milano cioè City Life cos'è? perché è il luogo più wine di tutta Milano? perché sì cioè se tu pensi di dover bere un bicchiere di vino dove pensi di andare? non lo so non bevo vino a City Life amici anzi scusate domani sabato alle 18 brindisi di apertura la Wine Week che durerà due giorni secondo me ma la dici cioè solo sabato e domenica poi non lo so ho trovato questo evento che il titolo mi interessava poi ho andato a leggere la descrizione ho detto vabbè da oggi fino al 6 c'è il Cook Fest Cook Fest? sì 2024 la permanente che è un locale a Milano che è inviaturati sono l'evento food del Corriere della Sera quindi corsi di cucina spettacoli con degustazione mercato dei produttori la domanda vera è una sola ne avevamo veramente bisogno ma se fai così non abbiamo bisogno di niente non siamo già pieni di tutti quegli programmi televisivi che ci hanno bombardati negli anni dieci della televisione sulla cucina dobbiamo pure fare un evento in giro per strada sono anche dei canali che fanno solo food sì esatto che pizza basta basta ho lasciato gli ultimi due eventi un po' stranini alla fine ah ok sei pronto? vai sabato 5 c'è danze sacre nella tradizione di Gurdijev che io non so ovviamente chi sia a Milano in via Pezzi 20136 non so dove sia credo Milano più o meno ma non dire più o meno che magari poi è d'altra parte percorsi di conoscenza del sé danze dei corpi celesti ci vedo benissimo ecco perché è una cosa strana che si può andare a fare io non ho capito però se no puoi fare quest'ultimo sentiamolo quest'ultimo è molto importante secondo te secondo me a te piacerebbe vai venerdì cioè stasera alle 20 e 30 c'è le sfumature del fuoco bio danza con Mirtes Gonzales allo spazio Mami Wata in via Savona 134 raga io non so cosa dirvi grazie per avere anche solo un amico di facebook che ha messo like a questo evento io vi ringrazio tantissimo perché se no veramente io non saprei dove trovare questi eventi dove sicuramente io non andrò ecco ecco benissimo Adriana invece ci scrive Gurdjieff beh andare sicuramente cos'è Gurdjieff quello di prima chi è Gurdjieff l'irreprensibile Gurdjieff come dicevo l'altro scusa Adriana potresti mandare un messaggio per capire chi è Gurdjieff c'era una faccina che rideva alla fine del messaggio quindi credo che forse neanche lei lo sa non lo so comunque Eribi grazie mille per i tuoi consigli prego prego la prossima settimana mi dilungherò perché questa settimana è stata troppo corta è stata troppo corta ma ti dilungherai così tanto quella dopo ancora che ricomincia Trend Me perché la prossima settimana sarà l'ultima solo con questo spazio dalla settimana dopo ci sarà anche Trend Me alle lunedì dalle 20 alle 21 con MM ecco e quindi va bene un saluto ad MM che è in quelle di terra nipponica e quindi buon pranzo buon pranzo buona cena no buon pranzo 7 e 7 tra 14 e 39 ok buon pranzo allora buon pranzo o con ogni acchi per tutti grazie mille arigato arigato cosa è in massa anche alla nostra Eribi andiamo con un po' di musica poi torniamo subito qui perché abbiamo altri ospiti che sono già in attesa di collegarsi con noi ciao ciao Rino Caretano con Gianna alle 7 e 42 minuti beh allora l'avrete letto tutti sui giornali se ne parla mai da ieri è successo qualcosa molti lo dicono il nuovo dissing di Milano tra un sindaco e un giocatore del Milan bene noi non potevamo non collegarci con il giocatore no con il giocatore ma con il sindaco ovviamente buongiorno a Marco Ballarini sindaco di Corbetta buongiorno Ballarini buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori buongiorno sindaco allora qualcuno più bravo di me direbbe ma signor Ballarini ma cosa mi ha combinato signor Ballarini cosa è successo sindaco ce lo racconti con la sua voce no io ve lo racconto poi mi dite a voi cosa ha combinato nel senso che da diverse settimane è morata a vita a Corbetta esce ovviamente nei locali pubblici e siccome è una persona disponibile si presta a fare foto con i tifosi che poi pubblicano sui social tante persone hanno iniziato a chiedere a scrivere a me a chiamare in comune così come giornalisti dicendo ma è vero che Morata abita a Corbetta per tagliare queste voci abbiamo fatto un post di benvenuto molto gentile molto accoglienti dicendo benvenuto nella nostra città Benvenuto a Corbetta che è una città di 20.000 abitanti con 2.000 unità abitative non è che abbiamo detto l'indiritto del giocatore e quindi aveva semplicemente il benvenuto c'è stato un post che è stato apprezzato perché c'erano tutti i commenti positivi davano tutti il benvenuto apprezzato Valerini mi fa fare la battuta ha apprezzato nonostante lo zio Pera che c'era nel post su TikTok anche volevo fare le complimenti anche per questo sì 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 certo ma era simpatico è una cosa anche gentiletta come in questi casi se lo dice lei va bene no ma davvero nel senso che ma ha visto i commenti dei cittadini perché comunque Morata non l'ha presa bene però Morata non l'ha presa bene però cioè si è un po' il problema è che lui non l'ha presa bene e ha fatto questa storia che dicendo che avremmo violato la privacy ma non abbiamo violato nulla perché lui non ha presentato nessun documento ufficiale cioè io ho saputo che lui abitava Corbetta da persona a cui l'aveva detto lui quindi non è che l'ho saputo per il mio ruolo o per altre cose eccetera però questo non ha fatto altro che amplificare la notizia che lui fosse a Corbetta perché se il post era stato comunque ben accettato ben voluto dai residenti che erano quelli cioè quelli che hanno visto che hanno visualizzato il post il primo giorno e circa 7000 persone il secondo giorno è stato visto da 700.000 persone quindi diciamo forse ma lei mi vuole dire che Morata va dal panettiere di Corbetta va al lattaio a Corbetta cioè mi stai dicendo questo cioè non vi bastava Giuseppe Ferreri all'Esselunga lì di Corbetta ma volevate anche Morata guardi che l'Esselunga di Corbetta è proprio il centro di queste cose perché tra l'altro è stato visto lì a fare le foto con alcuni con alcuni tifosi in un altro supermercato in un ristorante in un bar ma è normale uno abita lì e vuole avere un caffè esce vuole comprare una cosa esce penso che sia una questione normale poi lui è un personaggio pubblico e quindi viene conosciuto mi sembra anche normale questo poi il gentile si presta a fare le foto è chiaro che poi le pubblicano e poi le persone le vedono e poi chiedono i malpensanti i malpensanti dicono che questo l'ha fatto proprio perché lei è interista cosa rispondiamo a questa questa accusa no spero di no io ho capito che nella sua storia ci fossesse un po' di magari di problemi personali su di questo momento mi è spiaciuto per questo tra l'altro sono rimasto davvero molto dispiaciuto molto amareggiato per la sua reazione ma scusi un attimo Sindaco adesso però non lo pubblichi sui social per favore però lei l'indirizzo di Morata lo sa prenda va lì citofona e parlatevene non potete fare una bella chiacchia ma sì ma gli ho anche scritto un messaggio dicendo mi spiace ma se io mi avessi detto Sindaco grazie per il benvenuto ma preferisco che si sape il meno possibile puoi cancellare il post l'avrei scurato sicuramente anche perché ripeto due anni fa ho comprato la casa un'ana sono usciti gli articoli dei giornali locali dei giornali dei quotidiani non è successo nulla anche perché nessuno ha detto quale casa io sono poche però adesso faccio l'avvocato di Morata un po' sono poche in realtà non siamo a Milano quante dicevano 2000 case ci sono a Corbetto minorità abitative quindi sono poche sì ma lei è un personaggio pubblico quanto già si sapeva che era Corbetta quanto tempo pensa che ci si metta una volta che esce in macchina dalla casa una volta che va al bar a bere un caffè in tutta questa situazione si pente di qualcosa non si pente di nulla allora a dire la verità mi spiace di aver causato a Morata che tra l'altro lo stimo come cacciatore ma anche come uomo come persona magari un dispiacere dall'altra parte non mi sembra veramente aver fatto nulla di male perché non abbiamo volato l'intervista non abbiamo fatto niente che non capisco forse lo capisco per la sua situazione questa reazione quindi mi spiace se ho creato lui un problema però la sua reazione così scomposta ha creato poi problemi a me perché poi i suoi followers hanno iniziato uno storm shit incredibile ed è tutto ingiustificato ecco le chiedo forse aver fatto quel post poi finale dove mette il logo dell'Inter con la manina ciao non era forse anche quello un po' però esagerato chiedo chiedo per un amico poi parliamo anche con l'amico gli spieghiamo il problema è che il sindaco non è un personaggio creato con l'intelligenza artificiale o una figura cartonata il sindaco è una persona quindi giustamente fa una cosa con gentilezza dare un benvenuto di cuore vede una risposta così scomposta che genera questa cosa c'è rimasto male c'è rimasto male c'è rimasto male c'è rimasto male mi dici così allora devo andare dico vabbè allora ciao ciao vai cosa ti posso fare ecco vabbè allora io spero che veramente vi possiate trovare al bar da questo punto facciamo al bar dell'Essalunga di Corbetta che diventa appunto ormai Caput Mundi e sindaco con la giuse che ci canta una canzone perfetto appunto io la ringrazio comunque per aver spiegato le sue cose adesso sentiamo magari adesso chiamiamo anche Morata va bene Beatrice proviamo a sentire se non è il caso se non lo troviamo al telefono ci facciamo dare l'indirizzo dal sindaco no scherzo sindaco grazie mille buon lavoro buona giornata buona giornata buon lavoro al sindaco di Corbetta Marco Ballarini continuiamo con un po' di musica poi di nuovo qui in diretta su Crystal Radio Good Morning Milano Megan Trainers con Criminals 7.50 venerdì 4 ottobre Crystal Radio Good Morning Milano abbiamo avuto il telefono il sindaco di Corbetta Marco Ballarini sindaco tra parentesi volevi dare questa cosa sindaco rieletto anche quindi insomma evidentemente alla sua cittadinanza piace questo modo di fare molto social ziopera come dice lui del sindaco Ballarini e invece adesso abbiamo in collegamento una giornalista parliamo di Beatrice Sarti giornalista di Radio Rosso Nera perché voglio capire appunto nel mondo rosso nero che cosa si dice su questa situazione tra il sindaco di Corbetta e il giocatore Morata buongiorno Beatrice ciao ciao a tutti buongiorno grazie dell'invito grazie a te di essere qui con noi allora Radio Rosso Nera voce autorevole del mondo milanista e quindi ti chiedo cosa è successo ieri dopo che avete letto questo dissing tra Morata e il sindaco Ballarini ma guarda innanzitutto sono sincera ti dico io la prima volta che ho visto questa cosa mi è sempre venuto il dubbio che fosse fake perché sai no in questo in questo periodo sui social perché mi sembrava una cosa talmente strana cioè ma tutto proprio sì sì surreale che ho detto ma controlliamo se davvero questa cosa c'è sui social invece non è l'ercio cioè quella roba lì non è l'ercio è la realtà no? esatto ma guarda ti direi che dal punto di vista di Morata da una parte capisco perché mi è capitato negli ultimi mesi di capitare in posti dove magari per caso c'erano anche calciatori del Milan non so ristoranti ma anche semplicemente negozi e devo dire che in effetti poi qua c'è sempre un po' la medaglia da una parte e la medaglia dall'altra nel senso che è vero che a loro non costa niente fermarsi a fare una foto però capisco che magari anche quando fanno cose normali con la loro famiglia essere sempre fermati da 10-20 persone bloccati mezz'ora in un negozio per fare le foto non è facile poi Morata comunque ha una famiglia molto numerosa figli quindi non so non è facile capisco il voler mantenere la privacy perché poi molti dicono ma con i milioni che prendi ti dovresti fermare ogni seconda a fare le foto regge questa motivazione ma guarda allora regge perché comunque se sono così blasonati così anche così ricchi così famosi così amati e soprattutto grazie alle persone perché comunque sono loro che rendono questo mestiere anche così un sogno per tanti però ripeto mi immagino una scena che sono non so in un negozio provarsi una maglia provarsi un abito o anche con la moglie con i figli e arrivano 10 persone che ritengono lì foto autografi non tanto per il tempo ma perché magari vogliono restare nella loro privacy ora Morata per carità il sindaco non ha messo l'indirizzo di casa quindi però mi sembra un paese abbastanza piccolo io non sono mai stata però insomma mi sembra un paese abbastanza piccolo compiti per il weekend Beatrice quella di prendere una macchina fare la via Prenovare andare a Corbetta a visitare Corbetta e magari trovare Morata a questo punto per strada prima il sindaco ci diceva che è un paese da 20.000 abitanti con 2.000 unità abitative quindi insomma abbastanza facile credo capire dove abiti nel senso sì sì piccolino poi voglio dire una casa di un calciatore credo che tu la vedi anche esteticamente fuori quindi sai ci sono tutta una serie di poi ti dico il sindaco credo che ha parlato di di Schistor no sì 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 perché è stato anche ospite ai nostri microfoni credo che la Schistor sia arrivata anche per perché poi ha messo la storia a Instagram con l'Inter i colori dell'Inter infatti su quello insomma è stato un po' invece magari un po' esagerata non che sia giustificata non che sia giustificata per carità però è stato un po' tanto ecco non so tu cosa ne pensi un po' too much come si dice in questi casi visto che parliamo di social bene Beatrice io ti ringrazio insomma capire che non è facile decidere di stare da una parte o dall'altra anche per il mondo rosso-nero che però sicuramente si starà un po' stringendo intorno al proprio giocatore immagino nel senso anche perché così da cointerista quindi insomma è anche abbastanza facile sì sì diciamo che non credo che i tifosi abbiano avuto dubbi su da che parte schierarsi ecco ieri assolutamente bene allora Beatrice grazie mille buon lavoro a Radio Rosso Nera e ci sentiremo quando avremo bisogno magari di altre delucidazioni sul mondo del Milan allora va bene grazie a voi buon lavoro ciao a presto grazie mille ancora Beatrice Sarti giornalista di Radio Rosso Nera e adesso musica e poi e poi abbiamo gli ospiti che sono già qua fuori proprio qua fuori dalla porta andiamo avanti Hide of the Tiger Survivor e noi Duran Duran con Ordinary World alle 8 e 13 minuti questo era il Crystal History appunto di questa mattina Crystal History che potete ascoltare tutte le ore qui su Crystal Radio Good Morning Milano continua continua con gli ospiti abbiamo qui con noi un consigliere regionale perché stiamo parlando di in realtà dovevamo parlare di un tema poi invece vedrete che nella mattinata ne svisceremo molti buongiorno a Luca Paladini buongiorno Luca buongiorno Fabio buongiorno a tutti allora Luca Paladini consigliere regionale ormai da di quanto sei andato consigliere? da marzo 2023 quindi festeggiamo un anno e mezzo abbondante ah bene bene un anno e mezzo si cominciano a prendere le misure dai ci si comincia a capire come muoversi sì all'inizio sembra di atterrare sulla luna nel senso che poi è la prima volta che vivi un'esperienza del genere devi davvero prendere un po' le misure del luogo nel quale sei e capire anche l'importanza di di essere uno dei dei legiferatori di una regione con undici milioni di abitanti adesso è passato un anno e mezzo credo di avere accumulato una discreta esperienza e di lavorare nell'interesse della collettività ovviamente io lo faccio dall'opposizione questo è il pezzettino che mancava sono consigliere regionale ma non sono tra quelli della maggioranza sono di una lista civica che sta all'opposizione però insomma vediamo di farci valere ovviamente seguendo la linea dei nostri principi e dei nostri valori ti ho voluto qua perché qualche si devono fare è uscito sui vari giornali i vari report che hanno a che fare con le carceri in Lombardia e è un tema che abbiamo toccato più volte anche con altri consiglieri con anche consiglieri con anche parlamentari europei insomma è un tema che cerchiamo spesso di sviscerare perché se ne parla troppo poco sta di fatto che si scopre per l'ennesima volta mi viene da dire che insomma la situazione carceri soprattutto in Lombardia sta diventando sempre più insostenibile qual è lo scenario attuale? Allora sì la situazione è insostenibile in tutto il paese in Lombardia lo è in maniera esponenziale io sono vicepresidente della commissione carceri in Regione è un ruolo che spetta l'opposizione e da vicepresidente della commissione carceri uno dei compiti è quello di andare in visita ispettiva nelle varie istituti di pena e ogni volta che vado quello prima mi sembra meno peggio di quello che vedo San Vittore Beccaria Beccaria quello minorile Monza Vigevano Brescia è una gara a qual è il posto peggiore ma al netto che ovviamente sono istituti di pena ma anche di rieducazione perché ce lo dice la nostra Costituzione quello non è semplicemente un luogo nel quale tu sconti giustamente una pena ma è anche un luogo di rieducazione perché non è che abbiamo a che fare con solo degli orgastolani abbiamo a che fare con tantissima gente che poi verrà rimessa nel giro del circuito sociale la cosa impressionante è ovviamente il primo dato è quello del sovraffollamento che non vuol dire un paio di persone in più cioè è un vero sovraffollamento giusto? guarda Brescia da questo punto di vista mi ha impressionato più di altri posti io sono entrato in una cella dove erano in 15 15 in una cella di 10 metri quadrati con un bagno alla turca solo per tutti e questa roba qui forse neanche nel terzo mondo quindi nel momento in cui adesso fammi divagare diciamo leviamo la salis dalle carceri ungheresi perché non esiste che venga trattata in quella maniera non è che qua in Italia stiamo messi molto meglio cioè 15 persone all'interno di un carcere di una cella scusami è una condizione da paese che non rispetta i diritti umani c'è una frase di un filosofo dell'ottocento che dice il grado di civiltà di un paese si misura dalla situazione delle proprie carceri e se noi dovremmo misurare lo stato di civiltà di un paese in questo caso dell'Italia dovremmo dire che il risultato è scadente ma cosa porta al sovraffollamento ma non parliamo del ci sono due persone in più rispetto a quelle che sarebbe la capienza qui parliamo di 220% in più io ho qua i dati 220% Cantò Montbello quindi parliamo di Como al 204% in più di quelli che dovrebbe avere San Vittorio al 180% in più di quelli che dovrebbe avere Varese al 227% in più di quelli che dovrebbe avere capisci che sono numeri nei quali impressionanti infatti ma questo perché perché la gente comune dice perché siamo un paese di criminali dovrebbe fare questa l'idea è quella messa così sembra che viviamo appunto nei peggiori bar di Caracas come si diceva esattamente esattamente in realtà quello che dal mio punto di vista dal punto di vista anche di dell'opposizione in regione e poi magari ne parleremo in rapporto a un consiglio straordinario che ci sarà martedì tantissima gente è lì ma non dovrebbe stare lì in che senso nel senso che siamo di fronte ovviamente c'è una quantità impressionante di persone con problemi legati alla tossicodipendenza ma quelle persone che magari devono scontare i pene anche molto brevi sei mesi un anno e che però gonfiano le carceri dovrebbero esistere i CERT in grado di permettere delle soluzioni alternative al carcere viaggiamo sul 30% di persone che hanno problemi disturbi importanti di salute mentale quelle persone non dovrebbero stare in carcere dovrebbero stare in altre strutture il carcere dovrebbe essere un luogo nel quale ci stanno le persone che hanno una condizione psicofisica che ovviamente è compatibile con un luogo come il carcere ma se no devono esserci dei luoghi alternativi al carcere a partire ripeto da dico tossicodipendenti per inquadrare il fenomeno che non è che devono se c'è problemi ragioniamo su piccolo spaccio ragioniamo su consumo su abuso su questa roba qui ma è tutta gente che ovviamente dovrebbe trovare delle strutture alternative nell'ambito sociale nel quale riuscire a espletare a espletare quello che è il percorso di reeducazione e di reinserimento nella società e poi dobbiamo ragionare io mi rendo conto sono argomenti tra l'altro anche molto poco popolari non è che guadagni voti parlare di diritti delle persone detenute figurati è una questione molto complicata con i cacciati infatti ci conosciamo da una vita e sai che io tratto storicamente temi abbastanza di minoranza però i diritti delle minoranze è interista anche quando l'interprendeva questo fa capire questa è discreta forse è la minoranza più grande nella quale sento di appartenere quella di essere interista tutto il resto invece è minoranza vera però è importante invece ragionare anche su ma è importante anche perché noi non possiamo pensare appunto perché poi questa gente poi esce e se tu non hai creato le condizioni per rimettere per ridare dignità a delle persone che tornano in mezzo alle nostre strade tu semplicemente hai una situazione per il quale il grado di recidiva cioè il fatto che tu esci e poi torni a delinquere perché tu devi lavorare già all'interno delle carcere per la formazione la capacità magari di farli lavorare perché ci sono i lavori socialmente utili nei quali le persone escono dagli istituti di pena lavorano durante il giorno quindi si fanno un loro know-how che gli permette poi una volta fuori di provare a inserirsi nel mondo del lavoro perché se no siamo di fronte al fatto che semplicemente il carcere è una porta girevole dove tu entri esci rientri riesci ma così non si va da nessuna parte immagino che comunque avrete anche già pensato a delle proposte delle soluzioni soprattutto perché martedì 8 ottobre appunto sarà un consiglio regionale speciale proprio sul tema carcere a primo firmatario sei tu ne parliamo subito dopo la prossima canzone perché appunto continuiamo a parlare di carceri sapete è un tema come diceva Luca poco fa che non è facile trattare e che spesso non si vuole trattare ricorderò sempre quel professore del Politecnico di Urbanistica che un giorno venne qui in trasmissione e disse beh quando noi diamo un compito da fare in primo anno ai nostri studenti per pensare la città immaginare la città perfetta secondo loro vengono messe tutte le facilities in una città vengono messi gli ospedali viene messo anche il cimitero ma quasi nessuno mette il carcere per farvi capire quanto veramente è lontano e distante dal nostro pensare di tutti i giorni Viola Valentino con comprami alle 8 e 26 minuti Cristian Radio Good Morning Milano dicevamo con Luca Paladini appunto consigliere regionale vicepresidente della commissione carcere giusto ok che appunto sei il primo firmatario per questo consiglio regionale speciale come si chiama straordinario straordinario scusami sul tema carcere appunto che verrà è la prima volta nella storia della regione Lombardia che facciamo un consiglio straordinario su questo tema e non ti nascondo una certa come dire soddisfazione perché non era facile portarlo a casa poi non ci accontentiamo di fare quattro ore nelle quali parliamo e basta l'obiettivo concreto che ci diamo come opposizione è quello di lavorare insieme alla maggioranza perché inevitabilmente la matematica non è un'opinione bisogna dei voti anche della maggioranza è riuscire a strappare delle cose che siano utili alle persone attenzione alle persone che stanno in carcere ma anche a chi lavora in carcere anche a chi lavora in carcere perché il burnout di chi sta in carcere 12 ore parlo della polizia penitenziaria parlo di chi fa il medico di chi fa l'infermiere di chi fa l'educatore cioè è una situazione pesante per tutti abbiamo 70 suicidi da inizio dell'anno tra le persone carcerate che è un dato incredibile cioè tu affidi allo stato delle persone e 70 muoiono ma abbiamo anche 8 poliziotti suicidi quindi è un quadro disperato da tutti i punti di vista noi ci occupiamo di chi sta in prigione ma ci occupiamo anche di chi lavora nelle prigioni e la speranza è che si possa lavorare insieme maggioranza d'opposizione quindi può essere un primo buon tassello quello appunto di martedì 8 ottobre con questo consiglio straordinario appunto sul tema carceri una piccola pausa di pubblicità e poi torniamo sempre qui su Cristian Radio con Luca Paladini Selena Gomez con Single Soon alle 8 e 36 minuti Cristian Radio Good Morning Milano sempre qui in diretta Luca Paladini consigliere regionale dell'opposizione buongiorno ancora Luca parlavamo appunto che il martedì 8 ottobre ci sarà questo consiglio regionale straordinario sul tema le proposte però quali potrebbero essere cioè cosa si può fare nel senso dobbiamo costruire più carceri dobbiamo liberare tutti dobbiamo abbogliamo il carcere come facciamo nessuna di queste tre cose ecco perché io non faccio consigliere regionale lui si ecco non dobbiamo aumentare il numero di carceri dobbiamo aumentare i luoghi appunto come dicevo prima di strutture alternative al carcere non dobbiamo liberare tutti perché è giusto che ci sia la certezza della pena di fronte a una sentenza definitiva dobbiamo rafforzare le misure per cui ci sia una diminuzione delle persone all'interno dei carceri con luoghi appunto per persone che hanno determinate caratteristiche prima ho fatto un chiaro riferimento alle persone con problemi di sanità mentale e con persone che hanno problemi di tossicodipendenza e dobbiamo fare in modo che dentro le carceri ci sia quanto più sociale e sanitario possibili quindi educatori quindi mediatori linguistici sembra una stupidata ma abbiamo ovviamente mica lo nego una quantità di persone straniere all'interno delle carceri ma se non abbiamo i mediatori linguistici che fanno appunto da intermediari tra chi sta dietro le sbarre e un poliziotto della polizia penitenziaria creiamo un ulteriore problema di fronte all'incomunicabilità di esigenze che non si capiscono fra di loro gli educatori i mediatori linguistici e culturali all'interno di un carcere sono fondamentali ovviamente quindi noi parliamo di cose molto concrete aumentare i presidi sanitari nelle carceri per evitare i suicidi dare più soldi alla polizia penitenziaria perché appunto dentro la parola magica soldi dicono che non ce ne sono però come si fa? invece bisogna trovare le condizioni per chiedere al governo di fare un intervento importante che incentivi anche il beccaria da questo punto di vista è un caso proprio scuola che insegna come immagino magari ne avete parlato in questi anni di quello che è successo al beccaria ultimamente è succedendo di tutto è succedendo di tutto ma io che sono andato più volte in visita ispettiva al beccaria uno dei problemi è che l'età media dei poliziotti di polizia penitenziaria al beccaria ci aveva 28-30 anni gente completamente inesperta e tu ti ritrovi ad essere in contrapposto a dei ragazzi che non riconoscono l'autorità in te nel momento in cui vedono un ragazzo quasi quasi della tua età e questo contribuisce ovviamente a creare una situazione di ma questo perché? perché nessuno vuole andare a lavorare nelle carceri non ci vogliono andare i medici non ci vogliono andare gli infermieri non ci vogliono andare la polizia la polizia tende a non andare in quei luoghi più pericolosi o comunque dove appunto il burnout è più più marcato che tu continui a seguire appunto minoranze o luoghi di cui nessuno ci vuole andare lo testimonia anche il fatto che un altro tema che hai seguito nonostante non sia un carcere sono i CPR ad esempio ma sì ecco ricordiamo non è un carcere il CPR allora invece sì invece sì assolutamente nel senso che lì ci sono celle ma la cosa la cosa per cui cerco anche in questo studio degli spigoli sui quali sbattere la testa è che mentre in un carcere ci stanno persone tendenzialmente che hanno compiuto dei reati lì non ci stanno persone che hanno compiuto dei reati io quando vado nel CPR mi si avvicinano le persone mi dicono ma perché io sono qua dentro e io ho una risposta non gliela so dare o meglio la so e ovviamente non la condivido hanno inventato il reato di detenzione amministrativa quindi tu semplicemente perché non hai un documento con le firme corrette perché ti è scaduto da due mesi potenzialmente puoi finire in un carcere e starci un anno due anni ma tu capisci che è una struttura del sistema di uno stato di diritto l'idea che tu vai fondamentalmente in galera tra l'altro le condizioni CPR di Via Corelli te le raccomando ma non hai commesso reati non hai commesso reati hai un foglio scaduto e non può passare da una detenzione cioè oltre tutto detenzione che dovrebbe essere propedeutica diciamo così al poi rimpatrio che poi però non avviene quasi mai giusto nel senso i numeri poi cosa dicono esattamente ma perché ovviamente ecco quello che non capisco ma perché i rimpatri sono una cosa prima di tutto costosissima prima di tutto necessitano di accordi fra paesi paesi di provenienza e paesi non posso comprare il biglietto della raya nera quello lì e mandarlo al suo paese ma tu sai tu sai anche quanta come dire ostracismo c'è da parte dei consolati e delle ambasciate a collaborare perché ovviamente poi non li rivolgono neanche loro determinate persone quindi c'è tutto un processo però ripeto non è che stiamo poi allontanando dei criminali perché i criminali stanno in galera noi stiamo stiamo eventualmente spellendo gente che semplicemente magari ha io ho parlato con un ragazzo marocchino era stato in galera ha espiato la sua pena nel frattempo gli è scaduto il permesso di soggiorno è uscito dalla galera aveva un pulmino della polizia che l'ha portato al cpr e gli è scaduto il permesso di soggiorno mentre era in galera ma tu capisci che nel momento in cui tu finisci la tua pena perché l'hai finita esci e hai compiuto il reato di non aver rinnovato il permesso di soggiorno ma perché era in galera e lui mi sta impazzendo perché dice ma come io non ho avuto neanche materialmente la possibilità di ricostituirmi in senso di cittadino ospite di uno stato non esiste questo è il cpr bene allora chiudiamo questa pagina adesso una canzone poi puoi scegliere tu dopo di cosa vogliamo parlare di caso Feltri o delle curve di Milano e Inter cosa preferisci ma velocemente tutte e due se si può perfetto bene allora rimanete anzi qui con noi perché torniamo fra pochissimo e parliamo di questi due temi che sono belli caldi tutti e due che sembrano essere meno ma in realtà sono molto molto caldi e sentiremo dalla viva voce di Luca Paladini I Queen con Don't Stop Me Now allora ho detto a Luca se voleva scegliere uno o l'altro tema gli ha scelti entrambi non mi faccio mancare da cosa vuoi partire allora ti chiedo questo Feltri o le curve del Milan e Inter lascia il conduttore facciamo Feltri allora facciamo iniziamo con Feltri visto che comunque avete avuto anche un po' di bagare in aula e poi è un tuo collega appunto quindi da collega da collega di Vittorio Feltri cosa cosa ne pensi soprattutto ho visto che hai fatto contento anche Cruciani ieri che ha avuto da ridire sulla tua uscita si non è la prima volta che Cruciani mi dedica dei pensieri diventerete amici allora sono ricambiato nel senso che non me ne frega niente Cruciani l'hai chiamato collega ma è una parola grossa nel senso che Vittorio Feltri guadagna non meno di 6.000 euro al mese ma è venuto sei volte come te però nel senso no ah no perché no nel senso che ah no spiegami questa cosa mi sono perso da qualcosa io perché non è collega no vabbè annetto che è tutto pubblico nel senso quanto guadagnano i consiglieri regionali è pubblico ok c'è poi una decurtazione in base alle assenze ah ok legate alla presenza in consiglio e alle commissioni ok però non puoi mai scendere sotto una determinata solida ah ok e il signor Vittorio Feltri che si è fatto vedere tipo 5 volte in un anno e mezzo per 5 minuti ogni volta porta a casa dei bei soldi a proposito di gli immigrati che rubano il lavoro tanto per dirne una tanto per dirne una quindi un mio collega sui generis nel senso che non c'è mai non c'è mai eppure guadagnano l'autostipendio quello che ovviamente è diventato tema di polemica politica è la sua dichiarazione vergognosa che una rappresentante delle istituzioni non si può permettere vale a dire di godere all'idea che i ciclisti possano essere investiti noi abbiamo fatto al netto di quello che è successo in aula dove abbiamo chiesto una mozione urgente che non c'è stata neanche concessa cioè non solo non è stata votata una richiesta di dimissioni ma non abbiamo neanche potuto parlare in una mozione perché la destra ha deciso che non se ne poteva parlare uno e due prima dell'inizio del consiglio fuori dall'aula sono venuti almeno alle 8 di mattina fuori dal Pirellone sono venuti almeno 200 ciclisti è stata un'immagine anche molto bella hanno tutti messo le biciclette per terra si sono sdraiati e abbiamo ascoltato anche un papà che ha perso una figlia di 17 anni schiacciata in un incidente stradale con la sua bici e tu capisci che avere di fronte il dolore di chi ha subito una perdita di questo genere e metterla a fianco di una frase così sprezzante di uno che anziché che già al bar sport potrebbe essere quella non è l'uscita è buttata lì come una battuta esattamente però noi non possiamo permetterci che uomini delle istituzioni scambino il bar sport per appunto e poi devono sapere che ruolo ricoprono nel momento in cui tu dici godo quando un ciclista viene travolto viene schiacciato adesso la frase testuale non me la ricordo però il senso è questo tu stai dicendo una cosa di una gravità inaudita perché tu in quel momento stai rappresentando comunque un pezzo di sei una persona che ha un ruolo istituzionale quindi noi abbiamo chiesto le sue dimissioni per una questione proprio di dignità dell'aula e lo abbiamo fatto anche per rispetto che noi dobbiamo a chi in questi anni sulle strade ha perso la vita in contesti di incidente i ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti questa è la frase giusta è una frase inaccettabile noi che abbiamo chiesto le dimissioni manco se ne è potuto parlare vedremo se succederà qualcosa nelle prossime sedute o settimane sai già che non succederà nulla si salva anche questa volta ma sì è tipo Sgarbi quei personaggi a cui è permesso di dire tutto perché tanto a loro sappiamo che sono sempre sopra le righe ma non può funzionare così se hai dei ruoli istituzionali invece l'altro tema di cui volevo parlare con te appunto tu fervente interista opinionista sportivo anche ormai tv locali milanesi questa cosa che è scoppiata nelle curve di Milano Inter ma la domanda principale è non ci se lo aspettava chi frequenta gli stadi non è esattamente saltato sulla sedia di fronte a quello che è successo poi fino a che punto il fenomeno fosse radicato esteso uno uno che è fuori ovviamente non lo poteva sapere però che la curva facesse la cresta sui biglietti ma sono cose straevidenti da anni sono cose che nessuno credo che possa essere si possa considerare sorpreso da questo il fenomeno pare in realtà molto più pervasivo di quanto ci si potesse aspettare soprattutto sembra più pervasivo non tanto dentro lo stadio quanto anche fuori dallo stadio cioè nel senso che va a toccare tanti ambiti della città gli affari gli affari che producevano vero e proprio indotto e parliamo di centinaia di migliaia di euro su parcheggi su tu col tuo food truck puoi stare qua o non puoi stare qua tu col e poi il merchandising è tutta una serie di questioni per cui e poi vabbè parte davvero di queste ricchezze accumulate da questi personaggi che adesso sono in galera sono figli del fatto che questi avevano i biglietti a 50 euro e li rivendevano a 500 però questi biglietti a 50 euro da chi arrivavano scusa io come voi non ho informazioni maggiori leggo quello che sta emergendo dall'indagine sembra che ci fosse una sorta di tentata estorsione in alcuni casi riuscita nei confronti di Inter e Milan che alla fine quindi anche tu pensi che le società siano appunto parte lesa in questa storia ma guarda qui penso che mi conosci io sono ovviamente un gran tifoso ma ho abbastanza lucidità per capire che in alcuni casi c'è anche della convivenza c'è un'incapacità a volte di avere il coraggio di recidere determinati rapporti perché nel momento in cui tu ricevi minacce cosa buona e giusta sarebbe quella di denunciarle non tentare di accontentare io trovo incredibile che un capo ultra abbia il numero di Simone Inzaghi e gli chieda i biglietti cioè per dirne una e che i giocatori si attivino per recuperare dei biglietti non può funzionare così un sistema malato quindi probabilmente le società ovviamente hanno subito questa cosa però compito delle società sarebbe anche quello di provare poi a uscire da questo sistema mi auguro che di fronte a questo bubone che è finalmente io mi è già stato chiesto in altri contesti da tifoso come vivo questo momento la mia risposta è di liberazione ma magari ma magari siamo di fronte finalmente alla fine di questo sistema malato per cui le curve sono delle zone franche dove tutto è permesso la politica ha pensato che il contenimento del danno fosse vabbè ma succede tutto dentro lo stadio poi una volta fuori il problema non sussiste invece abbiamo capito che non può funzionare così perché come giustamente hai detto tu se si crea del business il business non resta all'interno dello stadio esce tra valica e poi quando si muovono tanti soldi chi si interessa di fenomeni del genere l'andrangheta non a caso le infiltrazioni dell'andrangheta sono presenti all'interno della curva dell'Inter sicuramente ma probabilmente anche di quella del Milan e quindi il senso di liberazione non è l'idea che siamo all'anno zero e si può ripensare un'idea di stadio dove il ruolo delle curve il ruolo degli ultra sia molto ridimensionato io vado ugualmente a vedere una partita di calcio anche se non ho la curva che mi fa la coreografia perché io vado a divertirmi per vedere una partita di pallone non perché ci sono 5.000 persone che lanciano i cori questo è fondamentale occhio a parlare di ricostruzione di stadio che qualcuno capisce male e pensa che bisogna buttarlo giù per fare uno nuovo attenzione penso che sai che io mi incatinerò mi incatinerò San Siro il rischio è quello Luca Paradini grazie mille di aver stato qui con noi questa mattina andiamo con la sigla e con i saluti finali quindi sempre qui 8.54 minuti Crystal Radio 8.55 minuti venerdì 4 ottobre siamo arrivati alla fine di questa puntata e di questa settimana di Good Morning Milano dopo di noi lo sapete benissimo c'è il giornale radio ma soprattutto dopo c'è senti questa con Ambrogio Curti la grande musica raccontata e letta tra le righe del pentagramma dalla bravissima e preparatissima voce di Ambrogio Curti oggi è venerdì sì domani non saremo in onda ma se così vi sentite così pervasi dalla tristezza e dalla malinconia perché non sapete come fare senza di noi beh c'è il sito goodmorning.milano.it potete riascoltare tutto quello che è successo questa settimana qui tutti gli interventi e poi c'è anche il podcast su Spotify e su Apple Music a noi comunque si torna lunedì mattina alle 7 qui in diretta con una nuova settimana abbiamo già tutto pronto vedrete che menu le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Alberto Corba Eri B Marco Ballarini Beatrice Sarti e Luca Palladini qui al microfono invece Fabio Ranfi in regia Ginevra e Beatrice grazie mille buon weekend a tutti ci rivediamo qui ci risentiamo lunedì ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.